e ci fa un obiettivo capire sia la situazione del 2013 sia soprattutto i trend relativamente a quelle che possono essere le prospettive, quindi questi gruppi, c'è un'analisi, per esempio, alle possibilità. Mi renderemo conto che sicuramente qui nel 2013 non è stato un anno felice, è un anno dove ci sono state delle decrementi per quanto riguarda le iscrizioni nella Camera di Convercio, quindi un trend tra iscrizioni e cessazioni che sicuramente risulta in grande senso negativo. Per quanto riguarda i primi mesi del 2014, un evissimo decremento si è verificato.